ciao a tutti amici di mattoscacco.com benvenuti in questo nuovo video questo video è un po' differente dai soliti non sarà istruttivo dal punto di vista di partite o conoscenze scacchistiche ma più che altro andiamo a vedere praticamente quali sono i siti diciamo più conosciuti per giocare online faccio questo video proprio perché ho visto in tanti commenti molti di voi che mi dicono ma io gioco contro il computer mi piacerebbe giocare contro persone dal vivo qual è il miglior sito allora questa una regola generale che è un consiglio che ti do in qualsiasi campo che sia scacchio qualsiasi altro campo quando tu devi ricercare qualcosa online se vuoi avere il maggior numero di fonti possibili devi ricercarla in lingua inglese perché l'inglese perché la lingua internazionale e ci usciranno 200.000 risultati per esempio se vado su google e scrivo siti giocare scacchi online mi escono una serie di risultati oa che bello mattoscacco.com c'è un po di risultati c'è punto com scacchio online punto eu questo non l'ho mai sentito c'è sfren mai sentiti sti siti rischi a chi sti online se invece scrivi c'è che significa scacchi in inglese online mettiamoci anche free gratuiti o va che ti escono c'è punto com c'è punto com sempre lo stesso secondo posto lice test test terzo posto c'è base quarto posto c'è 24 questi sono i 4 migliori secondo me andiamo un po a vedere c'è punto com quindi non andate sul play store scaricate giochini sclausi per giocare contro il computer anche perché quando poi vi ritroverete a giocare contro una persona reale umana c'è il computer gioca in maniera totalmente differente quindi un allenamento controproduttivo allora qui vi registrate io adesso faccio accedi ok qui puoi fare diverse cose poi giocare delle partite dal vivo puoi giocare delle partite giornaliere cioè è vero che puoi fare una mossa ogni due tre giorni puoi giocare comunque contro il computer no giochi contro il computer selezioni il livello di difficoltà puoi fare duemila cose ruotare la scacchiera avere degli aiuti su cosa giocare lui ti consiglia di muovere questo pedone da qui a qui puoi analizzare le cose adesso non sto qui a farti il tutorial tutto puoi fare le raffriche di problemi se ti vuoi esercitare facciamo allenamento allenamento inizia e lui ti crea un problema ora c'è il re nero al centro tu sei il bianco devi cercare di risolvere questo problema vediamo se lo canno secondo me re qui re qui alfiere qui perde la donna ok giusto sì ok quindi per esempio questo è un esempio di come ti puoi allenare anche dal punto di vista della tattica puoi fare solitarie esercitazioni imparare poi chiaramente questo sito per metà free per metà a pagamento per andare a maggiori contenuti connetti di cui ci sono tutti gli amici che che è aggiunto con quale vuole vuole puoi giocare insieme puoi trovare altri amici c'è il forum puoi cambiare chiaramente l'impostazione della tua scacchiera ora questi colori li ho messo io questo stile di pezzi però li puoi cambiare e questo è chess.com secondo me il migliore e anche il più reale in termini di punteggio elo cosa vuol dire quando voi andate quando voi andate sul vostro nickname su vostro profilo avete diciamo un punteggio no questo è diciamo il punteggio del gioco veloce questo è nei problemi questo nel gioco ultra veloce eccetera eccetera diciamo che il punteggio lampo online success.com è quello che si avvicina un po di più alla realtà mentre su altri siti come vedremo per esempio sull'e chess sono un pochettino gonfiati andiamo appunto sugli altri siti l'altro sito è l'e chess questo è totalmente gratuito questo sito si mantiene solamente con le donazioni dei membri quindi se volete donare fate cosa buona e giusta potete giocare potete imparare potete imparare anche temi tattici vediamo se c'era basi tattiche tattiche anche qui potete fare le tattiche quindi potete divertirvi oppure su allenamento potete cercare i vari temi tattici no se trova lo scacco matto attacco di scoperta la forchetta eccetera eccetera e vi esercitate a risolverli anche qui potete giocare scegliere di giocare a tre minuti tre minuti più due secondi ogni volta che fate una mossa e qui giocate contro gente dal vivo attenzione voglio mettermi in guardia quando giocate a 10 minuti 15 minuti 30 minuti troverete poche persone perché generalmente la gente sempre di fretta magari in questo periodo di quarantena a causa coronavirus no però generalmente fate fatica a trovare persone a giocare a 15 30 minuti e in più alcuni sono scorretti utilizzano anche dei programmi quindi questo è l'altro sito anche qui potete cambiare la grafica eccetera eccetera andiamo agli altri siti play chess play chess è molto carino qui vabbè fate il login eccetera eccetera anche qui ci sono tattiche video aperture c'è un botto di roba anche qui ci sono giocatori fortissimi potete scegliere di giocare a tre minuti 5 minuti 10 minuti vi consiglio di scaricare l'app che è questa qui play chess e qui scegliete che cosa fare da qui potete connettervi gratuitamente e giocare contro tutti e chiunque volete anche qui potete cambiare la visualizzazione insomma c'è un sacco di roba anche questo secondo è molto è molto carino e qui credo addirittura che lei lo sia sottostimato qui gente a 1500 gioca veramente da dio sono veramente fortissime usciamo quali erano gli altri siti c'era chess 24 che è carino chess 24 è il sito dove c'è il buon magnus magnus carlsen che è sponsor di questo sito è un po incasinato cioè per me ci sono un po' troppe schermate rispetto agli altri sono un account che entro ma no forse sì vabbè comunque non è un po' un po' un casino questo è l'altro sito e poi l'ultimo basta erano questi qui gli altri chess tempo l'uso per le tattiche insomma questi sono i quattro siti cercate le cose in inglese su google fate queste operazioni magari da computer è lo schermo più grande riesce a capire meglio e ma in realtà basta solo uno di questi siti non nel momento in cui trovi quello con cui ti trovi meglio ne basta e ne avanza uno veramente l'importante è che giocate con persone reali perché anche se voi impostate il computer a forza minima il computer gioca come un computer e poi simula gli errori facendo delle cappellate che normalmente i giocatori umani non fanno quindi non sono in grado di simulare il gioco di un essere umano perciò giocate contro gli esseri umani questi sono i quattro siti secondo me migliori per qualsiasi altra info scrivete un commento qui sotto ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao